Ci sono tanti modi per raccontare un'azienda. Abbiamo scelto per FPZ la storia del marchio che la rappresenta, che si evolve proprio come il saper fare dell'impresa e si concretizza nei luoghi che l'hanno vista crescere e cambiare, nelle tracce che essa ha lasciato e nei simboli che la rappresentano. Nel primo marchio FPZ le alette orientate richiamano la ruota palettata che ha fatto di questa azienda la prima produttrice di soffianze a canale laterale in Italia. Niente fronzoli grafici, il nero suggerisce essenzialità, concretezza, affidabilità, nero su bianco. Pochi anni e l'azienda si allarga in nuovi filiali, nuovi mercati. Nel marchio ora l'impronta circolare è inserita in un quadrato. L'azienda ha un capannone grande ed efficiente e soprattutto persone che si riconoscono in una squadra, che fanno quadrato. La scritta, solida, sorregge il marchio come una corona. Via il nero, spazio al blu, un richiamo all'aria, l'elemento naturale di riferimento, ma anche alla trasparenza nei rapporti personali. Del resto, consulenza e servizio sono componenti stessi del prodotto e la capacità di trovare soluzioni a misura di ogni cliente diventa plus aziendale portante. L'azienda cresce, il mondo evolve. Alla fine degli anni Ottanta, il web rende lo scambio globale, si annullano i confini. E il simbolo FPZ registra i cambiamenti, mantenendo i valori di identità aziendale, la concretezza e la trasparenza nel colore e nell'elemento rotante. Investiti dal flusso dinamico, i triangoli si smussano, poi si dinamizzano e si congiungono in una rete che scambia movimento, energia, progetti, informazioni, emozioni tra dipendenti, collaboratori, rivenditori e clienti finali, cui le applicazioni FPZ contribuiscono a migliorare la vita di tutti i giorni. Il quadrato si dilata, così si apre verso il mondo, diventa il mondo, la realtà con cui l'azienda oggi interagisce e si confronta. La scritta si assottiglia e si protende in avanti. È grigio antracite, il colore tecnico e performante, scelto per i nuovi prodotti. Compare Blower Technology, un claim che non lascia dubbi sulla vocazione aziendale. Il marchio leggero e potente è una nuvola, densa di energia positiva, come l'aria che imbrigliamo, soffriamo, convogliamo, aspiriamo, controlliamo in molteplici applicazioni per ogni settore. Aria che ci impegniamo a mantenere pulita, perché da essa deriva la vita. Ecco, c'è tutto il mondo in un semplice simbolo.